Buondi amici, benvenuti in questo Reading Vlog. Staremo insieme qualche giorno, ma prima di tutto sceglieremo la lettura con cui accompagneremo questo Reading Vlog. Sebbene io stia leggendo più libri contemporaneamente e non vi ho aggiornato sulle mie letture in corso, tra l'altro volevo dirvi anche che ho in programma un format più chiacchiericcio. Un qualcosa con cui aggiornarvi più spesso sulle mie letture in modo tale da darvi anche dei commenti in corso d'opera che non siano poi inclusi all'interno di questi Reading Vlog, perché non di tutti i libri che leggo faccio i Reading Vlog, ma mi piace aggiornarvi. Vi faccio vedere i libri che ho in lettura al momento, che stanno di là tra le altre cose, non ho preparato assolutamente nulla, e poi vi faccio vedere anche i libri che ho in baglio da scegliere come nuova lettura. Quelli li ho qui, quindi iniziamo da quelli, facciamo così. Allora, eccoli qua. Sono indecisa tra questi cinque. Allora, due li ho comprati a più libri più liberi a dicembre. Mandibula di Monica Ojeda e Fuensalida di Nona Fernandez. Poi, ho in dubbio, anche John Didion con l'anno del pensiero magico, vi avevo detto che di John Didion mi era tornato l'hype a palla dopo aver letto Schegge di Brittisonellis, perché lei è citata da Brittisonellis. Brittisonellis la reputa una delle scrittrici a cui lui si ispira. Tra le altre cose, ieri sono state libreria, ho comprato un libro e ho adocchiato sempre i John Didion, perché scrivere mi pare si chiami. Io di lei ho già letto Blue Nights, che è l'altro memoir sulla perdita della figlia Quintana, e ho letto anche Prendila Così, che invece è un romanzo di Fitchon. Mi sembra sia anche uno dei pochi di Fitchon, forse il più famoso che va ad attingere però al suo immaginario reale, quindi al suo vissuto, perché la protagonista poi è molto legata al mondo hollywoodiano. Poi altri libri che erano in forze, Alexander Hammond, Il mondo è tutto ciò che contiene, questa è un'ultima uscita, e mi ispira tantissimo. E poi questo, che invece, forse non ve l'avevo mai fatto vedere, Cane e Contrappasso di Keller. Questo l'ho trovato usato al mercatino qualche mese fa, anche questo mi ispira tantissimo, perché oltre al fatto di essere ambientato in un ospedale psichiatrico, dovrebbe tessere il mondo letterario con poi gli orrori della guerra, dovrebbe essere ambientato nell'exo di Jugoslavia, però ignoro il periodo. Il protagonista è un contrabassista jazz, quindi dovrebbe avere anche una forte valenza musicale, comunque ho voglia di un libro breve. Quindi, per il momento, Cane e Contrappasso direi di no, ma anche Il mondo e tutto ciò che contiene no, che me lo sono perso, eccolo. Quindi, i miei dubbi sono su Fuensalida, L'anno del pensiero magico e Mandibula. Mandibula ho sentito pareri discordanti all'epoca e ho voglia di un libro immersivo, ho voglia di questo. Perché sto facendo delle letture contemporanee che mi avvolgono particolarmente, che mi piacciono anche particolarmente, quindi ho bisogno di tenere alto questo standard. Sono indecisa tra Fuensalida e L'anno del pensiero magico. Nella mia indecisione, credo che opterò per L'anno del pensiero magico. È breve, sono poco più di 200 pagine. Penso che leggerò L'anno del pensiero magico. Avevo pensato anche di leggere La stanza di Giovanni, James Baldwin, però volevo una voce femminile. Anche questo c'è da dire. Le mie voglie di lettura o i motivi per il quale opto un libro da iniziare rispetto a un altro. Inizierò l'anno del pensiero magico di Giovanni Dion, quindi questo reading vlog sarà all'insegna di Colei. Nel frattempo facciamo anche un po' di aggiornamenti. Allora, sono passata in camera da letto perché qui ho i tre libri che al momento sto leggendo. Sappiate che ho finito la rilettura del Conte, del Conte di Montecristo, libro che ho impiegato qualcosa come tre mesi a leggerlo, che io ho iniziato a leggere pensando fosse una prima lettura. Poi nel corso dell'opera mi accorgevo che tante cose mi suonavano familiari. E proprio delle frasi, sai quando rileggi i libri e le frasi ti suonano come dei già detto, quindi una sorta di déjà vu continui, come voler dire, io questa frase già l'avevo amata, ma sono andata a casa di mia madre e mi ricordo che le ho dissi, ma io il Conte di Montecristo l'ho mai letto? Le mi hanno detto di sì? Era uno dei tuoi libri preferiti. Io in realtà mi ricordavo che di Dumas avevo letto I tre moschettieri, ma non mi ricordavo del Conte di Montecristo. Quindi effettivamente io ho fatto la prima rilettura dell'anno pensando di non voler fare quest'anno riletture e sono stata anche in quello inaspettata, perché una cosa che non volevo fare l'ho fatta. Ovviamente se dicevo a inizio anno, sai, nel video New York Book Tag, che sarebbe una sorta di buoni propositi letterari, voglio fare riletture, sicuramente non l'avrei fatto. Comunque al momento sto leggendo, partiamo dal primo che è lo scheletro dei prossimi tre mesi abbaccinante l'area sinistra di Mircea Cartarescu. Abbiamo finito la prima parte e oggi, tra l'altro, questa sera alle 9, abbiamo la diretta. Faremo una diretta su un canale privato, noi lettori selvaggi che abbiamo effettuato la lettura condivisa e parleremo esclusivamente della prima parte. Io non ho proseguito oltre, proprio perché attendo di fare la diretta per parlarne a voce, ne abbiamo già parlato per iscritto su Telegram. Non sono andata avanti a leggerlo, perché voglio rimanere con le impressioni a fine della prima parte. Mi sta piacendo tantissimo. La scrittura di Cartarescu è allucinata, è psichedelica, però allo stesso tempo è avvolgente. Lo sto trattando come se fosse una sorta di copertina calda e lo so che la cosa può apparire strana, però per me è veramente diventato un libro di conforto, un libro a cui cerco piacere per la scrittura. Mi sta piacendo tantissimo. Poi, altro libro che sto dosando nel tempo è Il romanzo luminoso di Mario Levrero. Questa è una sorta di diario. È un diario molto sui generis, perché parla di questo scrittore, Mario, che per 600 pagine si lamenta di non riuscire a scrivere il suo romanzo luminoso. Dovrebbe esserci un ribaltamento finale e il tutto dovrebbe poi essere scoperto. Comunque, lo sto centellinando, perché anche qui la scrittura mi piace tantissimo. È una scrittura totalmente diversa da quella di Cartarescu e lo leggo in determinati momenti della giornata. Per esempio, a fine serata, mi piace molto coccolarmi con qualche giorno rivissuto in compagnia di Levrero. Invece, ieri vi ho detto che sono passata da Feltrinelli. Avevo il buono, quello di San Valentino, dei 5 euro. E ho comprato un libro ad Elfi. Quindi ho usufruito del buono, ma allo stesso tempo ho usufruito anche dell'offerta del 20%. E ho preso La pietra lunare di Tommaso Landolfi. L'ho cominciato ieri sera, non l'ho più proseguito. Sta andando molto bene. Mi piace l'Incivit, perché poi alla fine ho letto le prime 25 pagine. È ancora molto presto per parlarne. Però, sostanzialmente, i tre libri con cui affiancherò per questi giorni l'anno del pensiero magico sono questi tre. Tra le altre cose, di Landolfi non avevo mai letto nulla. È un primo approccio. Sono molto curiosa. Di questo sono molto curiosa. Vediamo se riesco ad aggiornarvi sempre all'interno di questo reading vlog. E niente, adesso mi metto un po' a leggere. Oggi è giornata tranquilla, perché non devo lavorare. Quindi vediamo un attimo come ci sono gli sviluppi nel pomeriggio, anche quando tornano a casa le bessie. Se dobbiamo fare qualche commissione o quant'altro, altrimenti sarà una giornata in cui potrò leggere tranquillamente. Allora, leggo da pagina 22. Allora, le si avvicinano all'assistente sociale e il medico. L'assistente sociale aveva con sé un uomo che si presentò come il dottore di suo marito. Ci fu una pausa. È morto, vero? Sentì la mia voce chiedere al dottore. Il dottore guardò l'assistente sociale. Ok, disse l'assistente sociale. La signora è un osso duro. Mi accompagnerono tra i paraventi del cubicolo dove giaceva John, ora solo. Mi chiesero se volevo un prete. Dissi di sì. Un prete arrivò e disse le parole. Lo ringraziai. Mi diedero la clip d'argento in cui John teneva la patente e le carte di credito. Mi diedero gli spiccioli che aveva in tasca. Mi diedero il suo orologio. Mi diedero il suo cellulare. Mi diedero una borsa di plastica in cui dissero che avrei trovato la sua roba. Le ringraziai. L'assistente sociale mi chiese se potevo fare qualche cosa per me. Risposi che poteva trovarmi un taxi. Lo fece. Lo ringraziai. Hai soldi per la corsa? Mi chiese. Dissi di sì. Era un osso duro. Quando entrai in casa e vidi la giocca di John e la sciarpa ancora sulla sedia dove le aveva buttate quando eravamo rientrati dopo aver visto Quintana a Beth Israel North mi chiesi cosa sarebbe stato autorizzato a fare un osso tenero. Avere una crisi di nervi? Chiedere dei sedativi? Urlare? Sì, la volevo immersiva. La volevo immersiva ed è così. La prima cosa che mi è saltata in mente di questa pagina mi diedero una borsa di plastica in cui mi dissero che avrei trovato la sua roba. Raga, cioè la borsa di plastica, l'immagine della borsa di plastica è una di quelle immagini che a me mi ha perseguita da una vita. quando tu ritorni a casa solo con quella borsa di plastica e ritorni a casa e non sai che ci devi fare. Cioè non lo so, è un'immagine che non riesce a trovare un ordine in una determinata storia. Comunque vabbè, ho letto le prime 25 pagine. Prima impressione. L'incipit è fortissimo. due cose. Mi piace come lei intesse la sua voce con quelle... con le voci di altri che hanno subito altri lutti. Per esempio, lei fa riferimento alla... fa riferimento a due fatti. Primo l'11 settembre e poi... vediamo se lo trovo la... una madre che viene informata di che suo figlio ha perso la vita a Kirkwood. Mi piace come tesse la sua voce con quella di altri e va a confrontare il suo dolore la sua reazione di fronte alla morte con quella di altri. E poi un altro punto di interesse è come lei non riesce a scrivere almeno inizialmente i primi mesi della morte. Ho letto le prime 25 pagine. ne parleremo nel corso di questa giornata. Sicuramente io adesso ho fame e prendo le distanze dall'anno del pensiero magico perché... perché sì, perché ci sta. Allora, ho acceso la ring light perché nel frattempo stanno scendendo le tenebre le giornate si stanno allungando però non quanto vorrei per fare video. Comunque sono le 5 del pomeriggio e io sono ancora a casa da sola perché i ragazzi sono fuori con vari impegni e io sono arrivata a pagina 50 dell'anno del pensiero magico. È un libro in cui John di Dionna restituisce un quadro abbastanza lucido di quello che è stata per lei i giorni seguenti alla morte del marito di John. È un quadro lucido non perché lei sia lucida ma perché a posteriori capisce quanto in quei giorni non sia stata lucida. Dà una definizione del dolore molto bella ma anche la contestualizza all'interno di una serie di riferimenti e la mette per esempio in correlazione con eventualmente la perdita di genitori. I genitori sono una figura che non fa parte del nostro quotidiano invece magari un marito fa parte del quotidiano e quindi abbiamo di più l'incidenza nella nostra quotidianità. Un'altra cosa lei fa spesso riferimento a parole di altri cita ad esempio degli studi di psicanalisi cita Freud per arrivare a equiparare il dolore per un lutto alla stregua di una malattia o di una psicosi. Infatti lei cita Melanie Klein che nel 1940 ha espresso un giudizio analogo a quello che prima aveva espresso Freud. La persona in lutto è effettivamente malata ma poiché questo stato mentale è comune e ci sembra del tutto naturale non diamo al lutto il nome della malattia. Per formulare la mia conclusione in termini più precisi direi che nel lutto il soggetto attraversa uno stato manioco depressivo modificato e transitorio e lo supera. lei si aggrappa spesso alle parole di altri come in questo caso. Per aggrapparsi alle parole di altri è come se lei puntasse Joan Didion puntasse si ancorasse per rimanere solida nel suo ragionamento nel suo pensiero. Infatti ho iniziato questo capitolo e lei all'inizio del capitolo dice una cosa nei momenti difficili mi era stato insegnato fin dall'infanzia leggi, imparo adatti da fare rivolgiti alla letteratura essere informati significava non perdere il controllo considerando che il dolore per la perdita di qualcuno rimane la più generale delle calamità la letteratura sull'argomento sembrava notevolmente esigua lei poi cita un diario di un dolore ma cita anche Thomas Mann nella Montagna Incantata infatti la Montagna Incantata è un romanzo che parla benissimo non dell'amore della morte e della rielaborazione del lutto però mi trovo d'accordo con lei quando dice che la letteratura è abbastanza esigua la letteratura che parla di dolore a seguito di un lutto è abbastanza esigua comunque mi metto un altro po' a leggere poi sicuramente tornerà ad essere una casa abitata questa e non sarò l'unica da sola insieme al cane quindi vi do appuntamento direttamente a domani io domani mattina penso di andare a donare il sangue perché io dono il sangue da anni e almeno due volte l'anno vado e sono in periodo questo sono passati sei mesi di stop quindi dovrei donare il sangue dico sempre dovrei perché non si sa mai quindi vediamo come va aggiornamenti in corso di lettura a piccolissimo buco l'ho preso Roberto Bolagno il romanzetto lumpen che mi mancava gli emigrati di Sebald titolo che non conoscevo di Sebald questo Thomas Bernard i mangia poco e poi colsevano a parte la pelle e questo lo volevo leggere da una vita sono tutti ad elfi quindi sono molto contenta del book haul di oggi allora la donazione sangue è andata benissimo l'ho donata però in un ospedale che non è vicino a casa mia ma che è più tranquillo ha meno c'è meno resta ci sono meno donatori e quindi mi sbrigo infatti alle nove e mezza ero fuori di solito pur arrivando alla stessa ora nell'altro al San Camillo di Roma ci metto un'ora in più però hanno la colazione più buona perché hanno i cornetti invece al San Filippo Neri non ce l'hanno e quindi ho mangiato una crostatina di quelle merendine che a me non piace tantissimo quindi adesso porto il cane a fare pipì e poi ci aggiorniamo un attimo su quello che sto leggendo perché ho proseguito con John Didion e confermo le impressioni di ieri ma soprattutto io sono andata avanti con Tommaso Landolfi e mi sta piacendo tantissimo mi sta piacendo veramente tanto è un qualcosa di conturbante perturbante anche gotico è veramente una bella scoperta veramente una bella scoperta ho letto le prime 50 pagine e il romanzo è molto breve perché arriviamo secondo me non oltre i 140 comunque il libro ce l'ho di là allora mi sta un po' calando la stanchezza normale è normale oggi sarà una giornata di riposo comunque ho provato a leggere un po' però non ce la facevo quindi vediamo questo sarà un reading vlog almeno oggi non penso registrerò altro però vi volevo dire due cose su Tommaso Landolfi Tommaso Landolfi mi sta piacendo molto e io mi sono approcciata a La Pietra Lunare senza sapere nulla della trama e col senno di poi è stata la soluzione migliore perché il tutto viene giocato c'è una sorta di colpo di scena ma poi questa terminologia è oltremodo abusata ma c'è una sorta di colpo di scena comunque sia l'introduzione di un personaggio perturbante che prende le redini della storia e avviene dopo qualche pagina quindi sapere la trama rovina un po' soprattutto in questo in questo romanzo che secondo me si gioca appunto sulla lunghezza molto breve io sono arrivata a pagina 50 per il momento mi sta piacendo molto Tommaso Landolfi ha una scrittura non immediata perché utilizza un registro aulico però allo stesso tempo è molto musicale per certi versi mi ricorda Bufalino anche se Bufalino era estremizzato questo tratto caratteristico per quanto riguarda l'anno del pensiero magico sta andando avanti e si sta ricongiungendo con Blue Knights l'altro memoir sul lutto di Quintana la figlia di John Didion e di John che è venuto a mancare dopo John mi sta piacendo molto anche questo poi altra cosa ieri abbiamo fatto la diretta con i lettori selvaggi abbiamo parlato della prima parte di Cartarescu ed è stato bellissimo è la prima diretta che facciamo ed è una diretta privata perché non esce su nessun social perché ognuno può intervenire a me piace che le letture condivise ma anche i gruppi di lettura perché poi alla fin fine sono sempre letture condivise ma le letture che poi faccio con le mie amiche sembra che ascolta è whisky comunque le letture condivise che faccio con Francesca Selvaggia Serena tutte le mie amiche con cui ho avuto modo di condividere letture sono sempre state delle letture condivise che hanno ripreso molto quello che è stato il mio approccio con i lettori selvaggi mi piace che la mia parola abbia lo stesso peso di quella degli altri e quindi che il tutto sia bilanciato fare una diretta in questo in questo modo mi ha dato la possibilità prima di tutto di ritornare un'ennesima volta sulla prima parte di Cartarescu che è sempre buona è sempre una una buona occasione per ripassare tra virgolette quanto si è letto anche perché rispetto a quanto c'eravamo scritti su Telegram a parlare a voce di Cartarescu ci ha dato la possibilità anche di la più banale rilettura di alcuni passaggi ma anche il fatto di avere un dialogo più diretto è stato tutto molto più naturale si è creato un ambiente intimo un ambiente davvero quasi al di fuori del tempo e dello spazio come magari Cartarescu avrebbe approvato quindi sono molto contenta di questo sicuramente la riproporremo per le altre parti della sinistra ma anche per la lettura che faremo a febbraio perché leggeremo la metamorfosi di Kafka quindi io ho intenzione tra l'altro la prossima settimana di rileggere anche il castello quindi la mia intenzione sarebbe quella di rileggere il castello a leggere la metamorfosi integrare con lo scritto di Nabokov tratto da lezioni di letteratura e poi ho trovato al mercatino Roth osservando Kafka mi sembrasi in titoli ecco questo potrebbe essere un bel percorso di lettura e ovviamente verrete aggiornati in merito oggi pomeriggio rimarrò a casa ovviamente a riposarmi ma anche perché viene a casa mia madre e dobbiamo fare dei lavori a casa e quindi oggi non vloggerò ma ci aggiorniamo a domani allora oggi è sabato pomeriggio questa mattina ho lavorato però sono riuscita ad andare avanti con l'anno del pensiero magico ho anche aiutato i ragazzi a fare i compiti adesso non c'è nessuno a casa quindi facciamo un aggiornamento di lettura e penso che sia anche quello definitivo sono arrivata a pagina 140 quindi mi sta mi mancano 80 pagine più o meno 75 pagine per terminarlo domani sicuramente lo terminerò però mi sono resa conto che è un libro di cui si potrebbe benissimo discutere estrapolando dei concetti e soprattutto se ne può discutere con persone che lo stanno leggendo in corso d'essere quindi in corso di lettura ma soprattutto attingendo al proprio vissuto perché prima di tutto si tratta di un memoir e quindi leggendolo siamo portati automaticamente a confrontare l'esperienza di Joan Didion con la nostra dall'esperienza di Joan Didion posso benissimo essere d'accordo su un punto che lei dice a un certo punto quando ieri vi avevo detto che lei stava andando ad attingere alla letteratura non soltanto la letteratura scientifica ma anche letteratura filosofica psicoanalitica letteratura vera e propria e quindi proprio materiale letterario per andare a delineare cosa fosse il lutto cosa fosse la morte e c'è una conclusione a cui poi arriva è che c'è poca letteratura in merito riferita alla morte la letteratura è una sorta di la morte in letteratura è una sorta di dogma e questa è una cosa che un po' ho sempre pensato quando vi ho parlato all'interno di una dei vero up della fine dell'anno scorso di appunti su dolore di Kimamandi Gochi Adici vi dicevo che era un libro più che altro necessario per l'autrice un po' retorico ecco l'anno del pensiero magico non è assolutamente retorico ma se noi andiamo a cercare libri che parlano di amore di morte ancora che dico amore libri che parlano di morte o troviamo quel tipo di memoir e quindi abbastanza retorici oppure andiamo dall'altra parte l'esorcizzazione della morte quello che fa continuamente Philip Roth a partire poi dal suo teatro di sabat sesso e amore attraverso il sesso si va ad esorcizzare sesso e morte attraverso il sesso si va ad esorcizzare la morte anche io ho una sorta di dogma io anche vedi a livello inconscio anche io vado a rifiutare la parola morte la sto sostituendo con un'altra parola e lo faccio a livello inconscio è un lapsus però la dice lunga e quindi la nostra società occidentale ha questo tabù ha il tabù della morte e questo si ripercuote poi sulla letteratura e la letteratura che parla di morte è pochissima una cosa io ho letto poco letteratura giapponese però mi ricordo che quella poca che ho letto trattava la morte da un punto di vista spirituale diverso da quello occidentale era molto diversa in merito però non aveva la paura reverenziale che abbiamo noi occidentali hanno un altro modo di aggirare la presenza della morte in vita quindi questa è sicuramente una delle prime considerazioni l'altra è che è un memoir estremamente lucido è un memoir di una donna che deve cercare di sopravvivere a un lutto e ricostruisce poi tutte le tattiche che lei ha messo in pratica con tutte le sue difficoltà per superare e c'è una frase che lei si ripete come un mantra lo ripete all'interno del libro come se fosse un mantra e ci sono una serie di frasi che lei ripete come se fosse un mantra leggi impara datti da fare informati punto a capo essere informati significa non perdere il controllo ed è vero siamo in una società che deve avere continuamente il controllo la produttività non è altro poi che una forma di controllo è una forma di controllo sul tempo è una forma di controllo anche sulla sulla nostra presenza all'interno delle attività che facciamo sia a livello professionale che anche a livello più di piacere tutto quello che è piacere deve essere produttivo altrimenti non va bene e lei dice essere informati significa non perdere il controllo quindi essere produttivi significa non perdere il controllo ti insegnano questo ultimamente e John Didier invece dice essere informati significa non perdere il controllo per lei essere informati significa leggere significa informarsi con la letteratura non per questo leggi impara datti da fare informati ed è una cosa che a me è piaciuto tantissimo il suo approccio il suo approccio a non soccombere a non farsi deteriorare dalla morte di John è importantissimo tutta una serie di cronache che lei fa delle sue giornate con John come erano soliti dividersi questo mestiere che avevano in comune quello della scrittura di come riuscissero a vivere in simbiosi ognuno con i suoi spazi mi sono piaciute molto quelle parti mi è piaciuto un po' meno perché lì vanno un po' a tingere anche nel vissuto personale quanto ognuno di noi c'è passato ci sono una serie di pagine in cui lei fa una cronaca dettagliata delle giornate in ospedale ad assistere John prima della notte in cui lui ebbe poi il colpo che lo portò a morire ma anche magari la semplice applicazione del pacemaker poi quando lui è morto Quintana la figlia era ricoverata per un'influenza che poi ha avuto delle conseguenze non previste tutte quelle parti sono molto dettagliate e sono sempre un tenere sotto controllo la situazione lei attraverso una serie di dati tecnici attraverso delle informazioni scientifiche dei termini medici tiene sotto controllo la situazione questa è sicuramente un modo che ha John Didion per esorcizzare la morte per esorcizzare la morte che ha intorno a sé quella probabile di Quintana e quella che invece ha visto di suo marito John attraverso le informazioni attraverso la letteratura attraverso la scienza lei riesce a tenere la cosa sotto controllo e sostanzialmente a non incombere nella follia lo trovo un memoir onesto autentico può non piacere può non piacere la scrittura di John Didion può non piacere quello che ci sta scrivendo può non piacere la realtà il contesto sociale che lei riporta questi sono gusti personali però quello che viene almeno quello che io avverto nelle pagine di questo libro è un'assoluta sincerità intellettuale a trattare questo tema che è un tema delicato senza entrare nella retorica ed è quello che io volevo aspettarmi da un libro che trattasse di questo ovviamente io so quanto le aspettative siano anche un qualcosa di sopravvalutato io tendo sempre a non cominciare i libri con delle aspettative però mi pongo sempre determinati problemi ossia voglio leggere un memoir che parla di morte secondo me la morte so come non vorrei leggerla e io ho trovato in l'anno del pensiero magico l'assenza della retorica che odio trovare nei libri spero che mi abbiate capito perché forse sono stata un po' contorta nel frattempo io non ho finito nulla non ho proseguito nulla perché la pietra lunare sono rimasta ferma dove eravamo ieri il romanzo luminoso l'ho letto qualche altro giorno prima di andare a letto ieri ma ero un po' stanca ero un po' provata dalla giornata oggi pomeriggio andremo al cinema andremo a vedere il film che è uscito giovedì past lives che è candidato tra l'altro agli oscar come miglior sceneggiatura originale quindi sono molto curiosa e io ho visto povere creature mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto sì però tra il film e il libro il libro spacca il libro spacca cioè Alastair Gray ha scritto una bomba sotto tanti punti di vista e il film mette a fuoco soltanto determinati punti di vista che ovvio si è operato una scelta una selezione delle tematiche e niente ragazzi io chiuderei qui questo reading vlog e fatemi sapere ovviamente se avete letto l'anno del pensiero magico parliamone se avete letto anche la pietra lunale di Tomaso Landolfi così semmai ne parliamo insieme giù sotto nei commenti io vi saluto vi ringrazio e vi auguro buone letture ciao grazie a tutti